ciao a tutti amici del canale oggi vi spiego la ricetta dei pomodori secchi e sottoglio io li faccio bollire due tre minuti in acqua calda non salata e io non ci metto manco l'aceto adesso qualcuno dirà del botolino il botolino se c'era è morto col colore quindi non c'è sta più adesso vi scoliamo per benino e li mettiamo anche un avaccio a far asciugare prendiamo un po' di spicchi d'aglio e ne tagliamo fettine o ne raccomando togliamo prima il germoglio se non si chiudisce bene adesso riempiamo i barattoli mettiamo tre quattro pezzettini d'aglio un peperoncino che ci sta sempre bene qualche granello di pepe nero e i pomodori secchi cercando di aprirli per benino ripetiamo questa operazione fino a riempire il barattolo adesso versiamo l'olio bevo come si dice oggi riempiamo l'olio fino in cima e cerchiamo di far uscire il barattolo e riempire l'aria aiutandoci con bastanzino di degno mi raccomando guardiamo bene il borbo di barattoli e poi li chiudiamo per benino poi vanno fatti i bolli in una mezzoletta per creare il voto carissimi spero che il video vi sia piaciuto e provate sti pomodori sentirete pantemboni grazie a tutti